Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10. L'apertura del telegiornale è dedicata al 23esimo anniversario dalla morte del commerciante gelese Gaetano Giordano, assassinato per essersi ribellato al racket delle estorsioni. Oggi nessuna manifestazione in città per commemorarlo. È come se ci si fosse dimenticati di quel tragico evento. Sentiamo. Aveva denunciato il racket del pizzo le bande che taglieggiavano i suoi negozi di profumeria. Il commerciante Gaetano Giordano aveva 55 anni quando il 10 novembre del 1992 sotto casa in via Giovanni Verga fu freddato dei killer. Era in auto assieme al figlio Massimo raggiunto da un proiettile che lo colpì al braccio. Riusciresti a perdonare i carnefici di tuo padre? No, assolutamente no. Giordano aveva sfidato la mafia gelese cacciando dai propri negozi, uno in piazza ed un altro nel quartiere caposoprano, i picciotti che gli chiedevano il pizzo. Il commerciante aveva presentato denuncia contro tre mafiosi del clan Gianni Cavallo, poi chiamati Seggiari. Il killer ucciso Giordano, ma nei piani delle cosche quell'omicidio rappresentava anche una intimidazione rivolta a tutti i commercianti. Colpirne uno per educarne cento. Da quel gravissimo fatto di sangue che calamitò l'attenzione nazionale di tutti, sono passati esattamente 23 anni. Oggi è il 10 novembre. Non bisogna mai dimenticare il sacrificio di coloro che hanno combattuto con coraggio contro la criminalità organizzata. È una frase che abbiamo sentito tantissime volte. Se poi, con fatti concreti, si ricordasse sul serio quanto è accaduto, sarebbe la normalità. Ma ci permettiamo di sottolineare, senza polemica alcuna, Gela oggi non ha fatto nulla per commemorare la figura del commerciante. Né una messa in suffraggio, né un'iniziativa che potesse coinvolgere le parti sociali, le scuole. Nulla di niente. Non tocca a noi dire chi avrebbe dovuto organizzarle, come, quando e dove. Gela è come se avesse dimenticato. Gadano Giordano era uno di noi, un uomo che ha pagato con la vita. E la famiglia, nonostante avesse più di mille ragioni per scappare via dall'inferno di quegli anni, è rimasta in città. La moglie, franca evangelista, ha sempre detto di amare Gela e che non ha mai pensato di andare via. È rimasta in città, dedicando ogni secondo della sua giornata in ricordo del marito. Noi, nel nostro piccolo, lo stiamo ricordando. E risuonano ancora le manifestazioni di condanna per quell'omicidio esternate dai giovani studenti di quell'anno. Giovani studenti che adesso sono diventati uomini. E che racconteranno ai loro figli chi era Giordano e perché fu ucciso. L'identica cosa non possiamo dire per le nuove generazioni. Ecco perché sarebbe stato importantissimo ricordarlo oggi. Sono parole per... È troppo grande per noi la mafia, è troppo grande. Questi sono le nostre armi, speriamo di poterlo accelere a fare, ma è troppo grande. Quel commerciante aveva il diritto di essere tutelato. È stato forse uno dei pochi che è riuscito a battere il muro dell'omertà. Dobbiamo cambiare, questo è l'inizio di una lotta. Bravo! 23 anni, tanti e dolorosi per la città di Gela e la Sicilia. 23 anni fa Gela conosceva la violenza mafiosa contro un commerciante ucciso sotto casa e nello stesso attentato ferito il figlio. La città non può dimenticare quell'omicidio ha lasciato senza parole i cittadini che conoscevano la famiglia Giordano e che mai avrebbero pensato che l'oppressione del Pizzo e quindi il rifiuto di pagarlo potesse arrivare a tanto. La CGL in una nota esprime la vicinanza umana alla famiglia Giordano e invita le istituzioni a non dimenticare perché ciò rappresenterebbe una macchia civile, una vera offesa nei confronti di chi come Gaetano Giordano ha fatto ciò che è normale fare, cioè non piegarsi al pagamento del Pizzo, difendere la libertà di impresa e con essa la nostra città. Tante cose sono cambiate ma non è pensabile arrivare al silenzio in merito al ventitresimo anno dall'assassinio. Le nuove generazioni devono sapere, conoscere, avere memorie e indirizzarla bene per il bene comune. Adesso torniamo ad occuparci del convegno promosso ieri all'Istituto Ettore Romagnoli di Gela su dispersione scolastica e buona scuola. I nostri microfoni Maria Marzana, portavoce del Movimento 5 Stelle e componente della settima commissione cultura, scienza e istruzione alla Camera dei Deputati. La riforma della buona scuola, previsto tra i suoi punti più importanti, è l'alternanza scuola-lavoro. È considerata questa tra i punti forza per arginare il fenomeno della dispersione scolastica che, se non attenzionato, può diventare un'emergenza sociale? Sì, nella riforma della scuola c'è una disposizione che riguarda l'alternanza scuola-lavoro che sostanzialmente consiste nell'estendere questa opportunità formativa anche ai licei e vengono aumentate le ore di alternanza negli istituti tecnici e professionali. Ma è anche vero che a livello di risorse o di politiche per migliorare queste occasioni formative c'è molto poco perché di fatto le aziende, ad esempio, non vengono messe in condizioni di poter effettivamente offrire agli studenti delle esperienze di formazione professionale perché magari non hanno gli spazi adeguati oppure non possono mettere a disposizione dei tutor. Quindi innanzitutto bisognerebbe mettere nelle condizioni le aziende di poter dare queste opportunità agli studenti e vorrei aggiungere che gli studi dimostrano che la dispersione scolastica è soprattutto un problema di povertà educativa quindi bisognerebbe partire dall'investimento nelle strutture per l'infanzia e questo governo invece non ha fatto niente in tal senso se non magari fare delle dichiarazioni in tal senso che sono rimaste disattese. Qual è l'anello debole di questa riforma? fortemente contestata da tutti gli operatori della scuola a cominciare dagli insegnanti ma anche dagli utenti, i genitori ad esempio? Sì, allora, intanto in merito alla dispersione scolastica non si fanno delle politiche serie, concrete e né tantomeno degli investimenti a proposito ad esempio delle assunzioni di cui molto si è parlato queste non rispondono assolutamente al fabbisogno delle scuole questo è il grandissimo anello debole perché è vero che mancano gli insegnanti nelle scuole ma bisogna partire dalle esigenze formative, didattiche degli studenti e non scorrere semplicemente la graduatoria o rispondere alle preferenze da parte delle insegnanti in merito alla provincia in cui lavorare quello che si è fatto è semplicemente andare a scorrere la graduatoria ad esaurimento degli insegnanti in cui molte classi di concorso sono esaurite per cui ci ritroviamo comunque con l'esigenza di assumere insegnanti a tempo determinato, quindi le supplenze continuano e questo perché non si vuole effettivamente rispondere al bisogno delle scuole e quindi in questo caso scorrendo anche le graduatorie d'istituto dove ci sono insegnanti abilitati e sul convegno promosso ieri all'istituto Ettore Romagnoli di Gele il presidente del consiglio comunale Alessandra Ascia sottolinea che l'incontro è stato di estrema importanza a cominciare dalla dispersione scolastica e la buona scuola la dispersione scolastica altro non è che il frutto della disgregazione sociale e familiare e della disoccupazione dice Ascia, entrambi presenti in maniera massiccia nel nostro territorio incancrenitosi adesso con la dismissione del polo Eni con conseguente maggiore tensione sociale e maggiore disoccupazione entrambi elementi quest'ultimi che alimentano nei minori attrazione al malaffare e al lavoro nero ecco perché ora più che mai a Gela servono incentivare strumenti e finanziamenti che creino parallele passerelle scuola-lavoro scuola-formazione professionale-lavoro circuiti virtuosi per annullare la dispersione scolastica e il lavoro nero e creare premesse per una auspicata maggiore occupazione giovanile e la chiesa è a fianco degli studenti lo dice il vicario foraneo di Gela Michele Mattina, lo abbiamo sentito Quale può essere il ruolo della chiesa nell'ambito del fenomeno della dispersione scolastica nell'ottica anche della continuità orizzontale delle scuole col territorio e quindi inevitabilmente anche con gli oratori delle parrocchie? Beh innanzitutto c'è una presenza della chiesa a scuola che è l'insegnamento di religione già questo è un approccio molto molto importante dopodiché ecco ci sta a cuore che tutti i ragazzi e ragazze possono realmente avere quella istruzione di base che serve per vivere come si conviene la dignità della persona e nei nostri oratori si cerca di fare anche un recupero nel senso che si favorisce chi non ha la possibilità di poter pagare un insegnante per il dopo scuola e in questo senso siamo sempre attenti insomma a quelle che sono le realtà economiche e familiari di tanti ragazzi per poterli veramente aiutare ad avere quelle opportunità che siano per tutti come vera autentica realizzazione Vi è mai capitato di dover intervenire su alcuni soggetti che si stavano allontanando dalla scuola e invece persuaderli a tornare tra i banchi di scuola? Sì, questi sono diremmo rapporti personali diretti che avvengono o nell'ambito del catechismo quando le insegnanti di catechismo le catechiste sanno di una situazione o la stessa o lo stesso insegnante di religione che evidentemente conoscendo le situazioni interviene coinvolgendo le famiglie sostenendole anche per quello che si può fare e tante volte si provvede a libri e materiale didattico perché non siano sbandaggiati quei ragazzi che hanno, diremmo, difficoltà economiche Don Vincenzo Timpano è il nuovo sacerdote salesiano dei giovani per i giovani l'ordinazione sacerdotale avverrà per mani del Vescovo Monsignor Rosario Gisana sabato 14 novembre alle 17 presso il Paladon Bosco dell'Oratorio Salesiano San Domenico Savio un evento importante per la comunità parrocchiale del villaggio Alviso che arricchisce la stessa di un nuovo ministro Don Vincenzo Timpano di 33 anni originario di Messina ha conseguito presso l'università la laurea in filosofia e relativo dottorato di ricerca insegnando come assistente presso la stessa facoltà ha conseguito inoltre la laurea in scienze politiche psicologia, giurisprudenza e conservatorio dove ha prestato il suo servizio come docente malgrado gli innumerevoli impegni accademici ha dato sempre la sua disponibilità come animatore presso l'Oratorio Salesiano Domenico Savio di Messina dove si è occupato di sostegno scolastico allenatore di calcio e animatore di cortile da giovane Salesiano è stato in diverse case della Sicilia Alcamo, Palermo, Ragusa, Catania e Gela C'è una chiara disorganizzazione degli enti preposti nell'erogare la giusta assistenza ai cittadini è il caso dell'utine della ginecologia ostretrica di secondo livello a Gela Lo rimedisce il Comitato per lo sviluppo della regionese che ha scritto una lunga e dettagliata nota al Ministro della Salute, al Presidente e al componente della Commissione Igiene e Sanità all'Assessore regionale alla Salute al Presidente della Sesta Commissione ARS Servizi Sociali e Sanitari e al Direttore dell'ASP di Caltaninsetta Per conoscenza la nota è stata inviata anche alla Procura della Repubblica di Gela Dal 2009 si legge il Comitato il cui portavoce Filippo Franzone ha condotto iniziative al fine di migliorare l'offerta assistenziale ospedaliera dell'area giulese Numerose le segnalazioni al Presidente della Commissione Parlamentare di Inchiesta sugli errori sanitari, Leo Luca Orlando La successiva collaborazione con il Direttore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltaninsetta Paolo Cantaro portò ad un importante risultato L'ospedale Vittorio Emanuele di Gela fu individuato quale centro di ginecologia ed ostretricia di secondo livello e sede dell'Unità di Terapia Intensiva Neonatale In quest'ultimo caso elementi determinanti furono l'alto numero di nascita nella zona del gelese la notevole distanza dall'Utin più vicina 85 km con strade impercorribili l'alto numero di malformazioni neonatali presenti in zona ed il grande bacino di popolazione residente 400.000 abitanti in appena 35 km di raggio Entro lo scorso 31 dicembre bisognava adeguarsi ai requisiti strutturali per la rete materno-infantile siciliana ma così non è stato Nel gennaio scorso fu riconfermata l'attivazione dell'Utin con decreto assessoriale ma nulla e il mese dopo durante un'audizione alla sesta commissione ARS fu detto che si stava facendo il possibile per rendere operativa la struttura Occorrono fu detto dai 15 ai 18 medici ed altrettanti infermieri per far partire l'Utin che però non possono giungere dagli organici ASP in quanto figure con una particolare specialità non presenti negli organici altri incontri dati alla mano non hanno sortito al momento gli effetti sperati Gela rimane allo stato attuale l'unica sede di Utin siciliana a non essere stata attivata tutto è in alto mare ci sono i macchinari acquistati diversi anni dietro ma manca il personale l'auspicio conclude il comitato è che ci si attivi per controllare quali sono le cause di questi continui ritardi l'Utin è un'indispensabile struttura salvavita per il territorio giulese ci fermiamo c'è la pubblicità torniamo tra poco bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale iniziative intraprese dal nuovo consiglio di amministrazione sulle problematiche più urgenti che interessano la zona residenziale è il punto all'ordine del giorno dell'assemblea del comitato di quartiere di Macchitella che si terrà domenica 15 novembre prossimo alle 10 nei locali del Cinetea Trantidoto saranno presenti i componenti della giunta municipale e i consiglieri comunali adesso parliamo della Fiera Emaia di Vittoria che si concluderà domenica prossima sulla campionaria sentiamo il vicepresidente della regione siciliana Mariella Lobello mentre tutti i poli fieristici più importanti nel sud Italia chiudono la Fiera Emaia nei decenni non solo ha resistito alla crisi ma è cresciuta secondo lei perché? intanto per dove si fa perché credo che questa sia una provincia dal punto di vista anche dell'intraprendenza della voglia di fare dell'operosità insomma anche della grande capacità che ha dimostrato questa fiera di avere una visione insomma che non è semplicemente localistica quindi da un lato il posto e dal lato l'altro l'aspirazione la capacità di coinvolgere in tanti la capacità di sapere essere un luogo che è da un lato grande attrattore ma anche di grandi prospettive quindi credo che non la fortuna ma certamente l'esperienza la storia di Emaia la riconferma come una delle fiere più importanti Nell'ambito dello sviluppo economico del rilancio dell'economia dello sviluppo economico in Sicilia si è mai discusso in giunta del potenziamento di questo polo o ad esempio della creazione di altri poli importanti Stiamo cercando di guardare da un lato all'esperienza delle fiere che non sempre sono state delle esperienze positive le fiere quelle fiere mordi e fuggi quelle piccole fiere che mentre riescono a mettere attorno ad un evento le comunità certamente parlare invece di polio fieristico è tutt'altra cosa ne abbiamo parlato più volte credo che questo proprio l'anno di Expo avevamo anche ragionato proprio in giunta della possibilità di un grande momento per la Sicilia che sapesse parlare al Mediterraneo certamente non l'Expo con l'aspirazione del mondo ma una piattaforma naturale come quella della Sicilia è quasi naturale che si candidi ad essere ciò che la geografia le ha consegnato quindi da qui arrivare e da qui ripartire eppure il polio fieristico di Palermo era una delle più grandi e importanti fiere di Palermo è morta si sono persi tantissimi posti di lavoro ma anche grandi opportunità beh come un po' non c'era semplicemente il polio fieristico di Palermo c'era anche quello di Messina certamente quando i poli fieristici sono diventati altra cosa quando sono diventate semplicemente luoghi di sprechi dove certamente non era l'efficacia dell'azione ma era in qualche modo semplicemente da un lato clientela perché in questo passaggio in cui il favore per partecipare ad una fiera finisce con l'essere scambiato in altro quindi il diritto è favore il favore è clientela clientela in voti insomma anche la fiera di Palermo così come quella di Messina hanno risentito poi di quel peso che da un lato mette insieme pubblico e privato ma dove il pubblico finisce con non essere il supporto per la crescita ma finisce con l'essere invece una zavorra che difficilmente ti fa spostare e ti fa andare avanti adesso la nostra consueta rubrica in breve si terrà domani presso l'istituto comprensivo gele e butera diretto da Agata Gueli nel plesso cantina sociale di via Pablo Picasso la festa di San Martino appuntamento previsto per le 10.30 alla presenza del sindaco Domenico Messinese e di alcuni componenti della giunta come da tradizione i genitori dei ragazzi le stiranno e prepareranno le tipiche tavolate con i prodotti che meglio caratterizzano la realtà culturale e gastronomica gelese è sempre domani in occasione della festa di San Martino tutti gli alunni della scuola dell'infanzia dell'istituto comprensivo Giovanni Verga di Gera diretto da Viviana Aldisio si recheranno presso il parco di Montelungo un'occasione per stare a contatto con la natura e godersi il meraviglioso panorama e valorizzare le risorse del territorio Inaugurazione dell'anno accademico 2015-2016 dell'Unitre l'Università delle Tre Età si terrà sabato 14 novembre prossimo alle 17.30 presso l'auditorium del liceo classico Eschilo di Gela saluteranno gli ospiti Pinarces Giordano presidente onoraria Unitre Angela Scaglione attuale presidente Gioacchino Pellitteri dirigente del liceo e il sindaco Domenico Messinese Il Soroptimist Club di Gela in collaborazione con l'Istituto Culturale di Sicilia per la Cinematografia Ollus organizza in occasione dei 120 anni del cinematografo un seminario di storia del film tenuto dal regista Gianni Virgadaula al fine di promuovere la cultura e di offrire alla città un corso che può aggiovare a chi intenda intraprendere o approfondire studi che riguardano il cinema e in genere la comunicazione Il corso si svolgerà a Gela dal 23 al 27 novembre dalle 16.30 alle 18.30 presse il Museo del Cinema che sorge nei locali del Palazzo Pignatelli Siamo all'informazione cinematografica e De Marzia nel Sopravvissuto il film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Macchitella sono due gli orari di rotazione della pellicola 18.30 e 21.30 e sarà Mariangela D'Abraccio la prossima protagonista della stagione teatrale all'eschi l'appuntamento previsto per sabato 14 novembre alle 17.15 alle 21.15 sarà portato in scena Cancun per informazioni bisognerà rivolgersi al botteghino di Piazza Salandra dalle 18.30 alle 20.30 comincerà invece mercoledì 18 novembre la stagione teatrale al Cineteatro Antidoto di Macchitella la compagnia Antidoto si esibirà in Abriscola 2x2 si tratta di due atti di Tiziana Guarneri appuntamento alle 21.30 lo spettacolo sarà proposto anche giovedì 19 novembre sempre alla stessa ora per informazioni bisognerà chiamare il numero 0933 82 2707 con lo spettacolo è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale grazie per essere stati con noi e aver scelto anche oggi la nostra informazione vi ricordiamo che ogni approfondimento è disponibile sul nostro portale web all'indirizzo www.tg10.it oppure naturalmente sul nostro televideo arrivederci www.tg10.it 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 www.tg10.it